Buonasera, grazie a tutti. È vero, questa è una serata magica, come ci state raccontando, come ci state facendo vedere. Noi questa sera continuiamo, da un certo punto di vista, continuiamo un percorso che abbiamo avviato con Acea e con Areti, un percorso di illuminazione dei punti più importanti dal lato artistico, dal lato culturale, i nostri monumenti, le nostre bellezze, le nostre fontane e ancora tanti piccoli, anche angoli, della nostra città. Con queste illuminazioni artistiche riusciamo a restituire tutti i particolari e diventano una meraviglia. Perché Roma è una città sicura, è una città che ha superato il periodo del Covid con una grande forza, con una grande determinazione. Diciamocelo, noi romani abbiamo dato una grande prova di noi. È un momento in cui la città rinasce, è un momento in cui la città si rimette in moto, forse in modo diverso, guardandosi e guardandoci in modo diverso, ma dobbiamo ripartire. Abbiamo necessità che la città torni un po' anche a correre, abbiamo necessità che in questa città torni anche il lavoro. Ci fa piacere girare per la nostra città e vedere che comunque è tanto amata, è tanto amata da tutto il mondo. E vengono a vederla e vengono a visitarla. Quindi noi siamo qui ad accogliere i turisti e i romani, che forse in questo periodo se la stanno anche un po' godendo come turisti. Siamo qui ad accogliervi tutti a braccia aperte, regalandovi piccoli attimi di magia. Perché Roma sa fare anche questo, proprio valorizzando tanti angoli o tante piazze che anche la notte possono apparire meravigliose. Grazie davvero a tutti per essere qui. Grazie per continuare ad avere fiducia e speranza in questa rinascita di Roma, perché noi andiamo avanti. Davvero, tutti insieme.